L'ingegneria genetica colpisce ancora. Questo è il tema di quest'oggi a Klagemawa. Ben ritrovati. Nella lettera del 19 gennaio 2011 dello scienziato statunitense John Huber al ministro dell'agricoltura Vilsack è riportato in modo strettamente confidenziale che dall'uso di maes e soio OGM come foraggio compare in animali e uomini un nuovo agente patogeno che fa ammalare. La spiegazione. Le piante OGM ovvero manipolate geneticamente hanno fino al 50 per cento in meno di sostanze nutritive di vitale importanza. Il professor Huber mette in guardia dal collasso dell'intera agricoltura statunitense ed esige una moratoria immediata. Ecco alcuni fatti. Negli Stati Uniti d'America più di 10.000 persone hanno avuto disenterie e vomito a causa del maes geneticamente modificato Starlink. A causa del triptofano OGM negli integratori elementari 1.300 persone sono rimaste paralizzate, 36 sono morte e 10.000 si sono ammalate. Nella trasmissione Plus Minus sul canale ARD della televisione tedesca il dottor Carrasco racconta di bambini in Argentina i cui cervelli non hanno completato la loro formazione a causa del velenoso glicerofosfato OGM. In Australia i topi di campo si ammalarono di polmonite a causa di piselli geneticamente manipolati. Nel 2011 negli Stati Uniti d'America il gigante chimico Bayer dovete pagare 518 milioni di euro di risarcimento poiché il polline di un piccolo campo di sperimentazione con riso aveva modificato geneticamente molti campi vicini. Ora il riso OGM è statunitense contaminato geneticamente e non può più essere esportato. Un danno da miliardi. Ciò dimostra che nemmeno una multinazionale genetica può impedire la contaminazione attraverso il polline. È dunque confutata in modo impressionante la seconda asserzione dell'Unione Europea sulla coesistenza. L'agente patogeno scoperto da Don Hubo, così come il contagio letale dei bovini in Germania e le molteplici epidemie richiedono con urgenza un divieto di foraggi ed altri prodotti modificati geneticamente.